Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, bentornati sul canale se siete di ritorno e invece benvenuti se siete nuovi. Ricordatevi se vi piacciono i miei video di iscrivervi al canale, lasciare un like, attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun nuovo video, nessun nuovo contenuto in uscita. Oggi siamo qui con un contenuto un po' diverso dal solito, un video un pelino più lungo. Infatti vi propongo un webinar che abbiamo svolto all'interno della community un po' di tempo fa, dove andiamo a parlare di come il nostro stile di vita possa influenzare i nostri risultati nel trading. Metto già le mani avanti dicendovi che so che non è un contenuto per tutti, molti so che sono qui a cercare il sacro graal, la strategia vincente, tutte quelle cose che insomma per velocizzare il processo di apprendimento e vanno ad ignorare quelle che poi sono alla fine quelle più importanti. Quindi spero che voi siate persone interessate a questi contenuti perché sono quei contenuti che fanno veramente la differenza e vi consiglio veramente caldamente con tutto il cuore di investire un'oretta del vostro tempo in questo webinar perché non soltanto vi potrà dare tantissimo ma soprattutto sono cose che in giro non avete mai visto, ve lo posso assicurare. Il webinar in questione andrà a trattare principalmente sette punti, sette punti che andranno a riassumere quelli che sono appunto i punti fondamentali dello stile di vita di ognuno di noi, punti che ognuno di noi si ritrova all'interno diciamo della quotidianità. Andremo a vedere le problematiche che ognuno di questi punti può portare nell'influire appunto sui risultati del trading e come consiglio alla fine di ogni punto verrà appunto consigliato un libro che possa andare a migliorare la situazione per quel punto lì che possa andare a portare dei risultati migliori in quell'ambito della nostra vita che poi chiaramente si rifletteranno sui nostri risultati nel trading. Il webinar è principalmente portato avanti dal nostro coach Mattia, io interverrò comunque durante tutto quanto il webinar portandovi alcune mie esperienze, consigli personali e cose che appunto io ho potuto sperimentare su di me e cosa ha funzionato e cosa no. Quindi ragazzi detto questo io spero che questo contenuto vi piaccia. Chiaramente se volete partecipare a questi webinar in live valutate di iscrivervi alla community degli Cimokers perché facciamo due webinar a settimana trattando questi argomenti, operatività e tanto tanto altro e trovate il primo link qua sotto se volete dare un'occhiata e qua sotto trovate anche tutti i link dei libri quindi non vi preoccupate se durante il webinar ve li perdete perché tanto li ritrovate tutti quanti qua sotto. Io vi ho messo anche i minuti per andare a selezionare le parti di maggiore interesse del webinar anche se io vi consiglio di guardarlo tutto quanto e poi utilizzare i minuti in un secondo momento però vedete voi io vi ho messo tutto quello che c'è di utile qua sotto. Vi lascio al webinar, spero che vi piaccia e buona visione! Questa sera quindi webinar di psicologia ufficialmente. Nella community, soprattutto negli ultimi mesi, abbiamo cercato sempre di dare un taglio un po' tecnico alla risoluzione dei problemi dei traders ichimokers, diciamo così. Infatti molti bias cognitivi e molti trigger, chiamiamoli così, mentali, si possono risolvere con tre strumenti semplicissimi che sono trading plan, quindi piano di trading con regole più dettagliate possibili, trading journal, quindi diario di trading dove si raccolgono le operazioni, dove si tiene traccia delle performance e si mettono a confronto con il periodo e la base della strategia e numero tre, deck testing, che ci permette di capire come performa la strategia nel tempo in base alle nostre regole e di conseguenza questi tre elementi, se utilizzati quotidianamente ragazzi, ci infondono la fiducia necessaria per scavalcare i bias cognitivi di cui la mente umana è vittima e andare avanti nonostante i momenti di difficoltà che nel percorso di trading sono sempre dietro l'angolo, quindi non ci nascondiamo dietro un dito, ma piuttosto mettiamo questi tre scudi a pararci, diciamo così. Tuttavia io ritengo molto importante, come sapete, parlare di queste faccende, quindi parlare delle problematiche e quindi accompagnare al taglio tecnico che abbiamo dato negli ultimi mesi il taglio anche più teorico e riflessivo di queste questioni, ecco, diciamo così. Perché secondo me è importante confrontarsi, soprattutto per non sentirsi gli unici scemi, ecco, diciamo che magari pensano di trovarsi in determinate situazioni perché appunto non è così ragazzi, tutti ci passiamo, tutti ci siamo passati e nessuno è lo scemo di turno, semplicemente la nostra mente, la mente di tutti, non è programmata per il trading, per tutta una serie di motivi, che se mi conoscete sapete già che ho spiegato tante volte, infatti nel percorso ci sono altre lezioni a riguardo, e per questo ciò che dobbiamo fare quando veniamo a contatto con l'attività di trading è una vera e propria riprogrammazione, è come un po' intervenire su una scheda madre, una CPU di un computer, e questa riprogrammazione abbraccia anche la nostra vita in generale, si estende anche in vari campi della vita, ecco, e questo avviene anche per far sì che il trading possa funzionare, quindi altri campi dovranno essere intaccati e riorganizzati per far sì che voi riusciate nel trading. A tal proposito, prima di andare avanti, spero vi ricordate qualche settimana fa che abbiamo parlato, abbiamo fatto un webinar sugli obiettivi personali, proprio per capire le priorità di ognuno, e di conseguenza ricalibrarci, diciamo un po' così, perché ogni tanto ci vuole, secondo me, ricalibrarci anche verso il trading e verso le priorità. Inoltre gli strumenti che noi vediamo in dotazione, su cui lavoriamo in continuazione, trading journal, trading plan, backtesting, layout, operatività, e tutti gli altri che trovate nei canali Slack, sono la vera e propria terapia, chiamiamola così, la vera e propria terapia contro i bias cognitivi e le vere e proprie medicine che possono velocizzare e semplificare il processo di creazione del trader che hai in voi stessi. Quindi questi strumenti sono veramente la chiave, ragazzi. Per questo, questa sera, volevo chiedervi, secondo voi, il nostro stile di vita può influire sui nostri risultati? Sempre trading parlando. Rispondete in chat, ragazzi. All panelists and attendees. Ovvio, certo. Ci dicono. A voglia, anche in romano. Moltissimo, sì, ok, ok, ok. Assolutamente. Secondo me, sì, molto. Perfetto. Tutti molto convinti. La mia insonnia tantissimo. Vedi, hai tirato fuori una risposta alla domanda successiva, Mirko, perché appunto vi vedo tutti molto convinti di questa risposta e per questo, infatti, vi chiedo quali sono i fattori del nostro stile di vita che potrebbero influenzare le nostre performance? Ditemene un po' in chat. Mirko ha già anticipato, magari. Lavoro, orari, stress, sonno, cibo, sport, abitudini, soggettivi. Sì, è chiaro, è chiaro. Quali fattori vi vengono in mente? Leggendo devo pensare che quello che avete scritto sia il fattore che influenza le vostre performance. No, vabbè, scherzo, ovviamente. Especialmente il lavoro, studio. Quindi il lavoro magari lo collochiamo nel tempo, ok. Io ho raccolto un po' di questi fattori che possono influenzare, potrebbero influenzare, le performance. Ok, ne stai dicendo veramente tanti. Sono contento perché poi li aggiungiamo ai webinar successivi. Rapporti sociali, molto, molto bene. Quindi, vi dicevo, ne ho raccolti alcuni, anche perché dobbiamo comunque cercare di stare nei tempi e poi non sarebbe buono per l'attenzione trattare tutti i temi questa sera. Il primo che ho segnato io è appunto la routine e gli orari che scandiscono la nostra vita. E qui, nella routine e negli orari, magari ci collochiamo anche il lavoro. Infatti, nella definizione delle regole che dovete scrivere nel trading plan, io e Martina consigliamo sempre, abbiamo fatto tanti webinar al riguardo, di inserire i vostri orari operativi. Perché influenzano le vostre performance, ragazzi. Per esempio, se potete operare solo di notte, perché siete svegli di notte, lavorate di notte, insomma, vivete la notte o perché magari abitate in Australia, quindi nella notte europea, ecco, diciamo così, dovrete calibrare la strategia sui vostri orari. I miei orari operativi personali sono 7.30, 18.30. E chiaramente, in relazione a questo, non è che mi alzo dal letto alle 7.29, mi alzo prima perché sono consapevole che ho bisogno del mio tempo per svegliarmi. In caso fare colazione, perché di solito la faccio prima di mettermi al pc, fare stretching, non so se fate stretching, se volete appunto fare stretching, un metodo un po' dinamico appunto di svegliarsi, c'è anche chi si sveglia e medita, è sicuramente molto indicato per avere una chiarezza mentale ottima prima di sedersi al computer, però potrebbe anche riconciliarvi il sonno, la meditazione, quindi dipende, c'è anche chi si sveglia e legge magari dieci pagine del libro, del suo libro, che è un metodo molto rilassante, a mio avviso, per svegliarsi e iniziare la giornata, come c'è appunto chi si sveglia anche in ritardo e di corsa, con gli occhi ancora appiccicati, si mette davanti al computer. E anche questo, questo modo di vivere la routine mattutina, potrebbe influenzare le nostre performance. Sono curioso, sinceramente molto, nei vostri confronti e vi chiedo, chi ha una routine precisa di voi che state assistendo al webinar? Quindi chi è che al mattino segue sempre gli stessi step? E se posso aggiungere una domanda, chi è che nonostante abbia una routine precisa, ideale, idealmente nella testa, poi fa fatica, fa una fatica bestia a rispettarla e si ritrova la mattina ad alzarsi sempre più tardi e al perdere operazioni? Perché questa pure è molto importante. Io, 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 senza fatica. A volte io, fatica bestia, beh, a volte anche noi, eh, Martina, diciamolo, facciamo sentire... Quante volte, quante volte sottolineerei. Può capitare, assolutamente, ragazzi, assolutamente. Ok, io sto cercando di rispettarla, sono abbastanza bravo. Bene, Thomas. Spesso, Marco. Io la mantengo, ma sono alle sette, chiaro? Ci sta. Io, però, devo migliorarla. Assolutamente tutti possiamo, possiamo migliorarla. Sasaki dice, la routine ideale nella teoria, ma nella pratica, non riesco. Ok, ragazzi, quindi, per chi non riesce, per chi deve migliorarla, io ho fatto, ho voluto fare una cosa un po' diversa a questo webinar, ovvero, per ogni fattore che ho raccolto, ehm, e che poi abbiamo raccolto, perché adesso interverrà anche la nostra, la nostra coach Martina, abbiamo voluto, abbiamo voluto consigliarvi un libro, per cercare di migliorare, e di riflettere sul fattore in questione. Penso sia una cosa molto, molto carina, anche perché ci sono libri, anche leggermente inediti per la comunione, di libri che non, non abbiamo, di cui non abbiamo parlato nel canale Libri Risorse, quindi secondo me potrebbe essere molto, molto carino. E a tal proposito, per il fattore routine e orari, voglio consigliarvi un libro che tratta proprio di questo. All'epoca, io quando l'ho lessi anni fa, mi aveva messo veramente tanta energia positiva, e, ehm, che, energia che mi sono portato avanti per mesi, e, ehm, per questo, se non l'avete fatto, vi consiglio appunto di leggerlo, lo trovate anche nella libreria del percorso sul sito. Ok, leggo la chat. Molto bello, ok. Scusami un attimo, se ti interrompo, una cosa che mi sento di aggiungere, e che ve la dico sempre, è che, eh, fate comunque sempre attenzione a, e ve lo diciamo sempre con Mattia, visto tutti gli esperimenti che abbiamo fatto noi in passato su di noi, fate sempre attenzione a quelle che vengono proposte come le routine dei milionari, miliardari, la routine di Steve Jobs, che poi, vabbè, è morto, la routine di, insomma, tutti i grandi, perché tante cose sono, a parte che secondo me è finta, ve lo dico proprio sinceramente, tipo la sveglia alle quattro, la meditazione appena svegli, la lettura del libro appena svegli, i cinque minuti di attività fisica per poi rimettersi, ecco, sono cose molto molto impostate, no? che chiaramente c'è chi può trovarsi bene a farle e chi invece dopo un esatto allenamento di notte, dormire a testa in giù o il sonno di Napoleone, quindi si dorme un'ora e mezza se si svegli due, e fate attenzione perché, esatto, sono tante cose che comunque diciamo marketing, però a parte questo, tante cose possono anche essere molto utili, come per esempio alzarsi la mattina e fare stretching, o alzarsi e non so fare digiuno, alzarsi, allenarsi subito e via così, ma ricordatevi che ciò che funziona per gli altri non sempre funziona per noi, io e Mattia abbiamo sperimentato anni ad alzarci alle quattro e mezza, letteralmente ragazze alle quattro e mezza, per poi renderci conto che non era minimamente utile per noi, io per, esatto, doccia fredda, cioè ragazzi doccia fredda uno, ancora ancora un ragazzo, ma vi posso assicurare che una ragazza con i capelli lunghi, la doccia fredda col capello gocciolante sulla schiena, cioè non si può fare, io per esempio dal lato mio ho una routine veramente molto semplice, mi metto la sveglia, cazzeggio col telefono a letto per un po', perché sì ragazzi cazzeggio col telefono a letto, dopo un po' mi alzo, mi faccio un caffè e mi metto davanti ai grafici, fine, non medito perché mi riaddormento, non leggo perché mi riaddormento, non mi alleno perché non ce la faccio ad allenarmi una mattina, e via così, quindi ricordatevi che tutte queste cose sono molto soggettive e non c'è un giusto o uno sbagliato, per anni mi sono sentita sbagliata, pensando che facessi una routine che in confronto ai super milionari minerdari faceva schifo, la verità è che oltre il fatto che appunto tante cose sono finte, noi dobbiamo fare quelle cose che ci fanno sentire bene, se ci sentiamo che stiamo facendo qualcosa di molto forzato, tipo per me leggere la mattina era molto forzato, io mi riaddormentavo, mi saliva l'ansia proprio all'idea, così come la sveglia alle quattro e mezza mi saliva l'ansia, e poi l'ho abbattuta, ora la mia routine è perfetta, se un domani dovessero descrivere la routine di Martina, magari dicendo che mi alleno e faccio stretching, faccio 20 flessioni, sarebbero tutte cavolate, perché non è così, insomma mi alzo in pigiama, mi metto davanti ai grafici con un caffè, e a volte non bevo neanche l'acqua prima del caffè, e non bevo l'acqua e limone col sale, insomma tutte quelle cose lì, quindi mi raccomando, ricordatevi che tutte queste cose, tutte le persone che anche seguite o stimate, possono darvi degli spunti, ma dovrete sempre capire cosa va bene per voi, e se una cosa vi dà anche solo un minimo ansia, non fa per voi, se il pensiero di leggere la mattina vi fa stare male, non fa per voi, se fare stretching la mattina vi fa, non so, sentire in un determinato modo, non fa per voi, e tante cose vi dico anche che, secondo me possono cambiare a seconda della stagione, perché magari in estate uno è un po' più sveglio, col caldo ci si alza più facilmente, mentre col freddo chiaramente uno ha voglia di rimanere sotto il piumone e basta, quindi mi raccomando, come anche il trading, cercate di capire su di voi cosa funziona e cosa no, e non pensiate che tutto quello che viene fatto vedere, o se si sente sia reale, perché io non ci credo che sia reale, esatto, equilibrio e disequilibrio, con questo mi placo. come dice Claudio, tutto bello, ma secondo me poco vero o meglio, ognuno deve trovare il suo equilibrio con un compromesso accettabile, e penso che è proprio il riassunto di quello che stava dicendo Martina, poi indipendentemente dalla morning routine, e dagli orari, ci facciamo sempre 11-12 ore davanti al computer al giorno, io e Martina penso quasi fissi, quindi indipendentemente da ciò, e comunque sia secondo tassello ragazzi, andiamo avanti, secondo tassello ci immergiamo in un altro nuovo fattore, influenze esterne, qualcuno prima lo aveva detto, non so cosa intendevate, a questo punto mi starete chiedendo, Mattia che intendi per influenze esterne? Parliamo di social networks, televisione, film, giornali, e se vi viene in mente qualcos'altro di questo filone, scrivetelo pure, senza problemi. Ragazzi, questi strumenti di comunicazione nel 2021, sono tra i maggiori strumenti condizionanti delle nostre vite, e se il trading è parte integrante della nostra vita, pensate che bombardarsi la giornata, con vedere le stories di tutti i traders di Instagram, che ci mostrano i loro profitti, le loro entrate, che quasi sempre sembrano più fighe delle vostre, che vi faccia bene, pensate questo, oppure magari pensate che vi possa spingere a mettervi paranoia in testa, che scaturiscono con la messa in discussione, senza un reale motivo, ragazzi, della vostra strategia personale, perché dico senza motivo? Perché se siete in possesso del vostro piano di trading, del vostro diario di trading, dei vostri dati sulla vostra strategia, ragazzi, voi siete intoccabili, cioè lo dico chiaramente, siete intoccabili, a questo punto dovete solo lavorare sui vostri strumenti per migliorare quello che avete tra le mani, e non dovete farlo perché qualcun altro che non conosce il vostro percorso, che non conosce la vostra storia, la vostra strategia, che non conosce niente dei vostri dati, vi spinge a farlo, ricercando esternamente qualcosa di diverso, quando in realtà è dentro di voi e su di voi, in quello che avete tra le mani, che deve avvenire la vera ricerca che dovete fare. Vedo tanti messaggi in chat, può essere come, io ad esempio scoperto, ok, ok, si parla della routine, io ho preso la decisione l'altra settimana di cancellarmi da tutti i social, mi distraevano troppo. Beh, nel lungo termine è una decisione che vorrei prendere anche io, nel lungo termine. Mi deprime solamente vedere i profit degli altri su Instagram, mentre io prendo quinta lata di stop. Ragazzi, è un mondo, è un mondo finto, parallelo, tutto sembra perfetto su questi social. E a parte questo, passando agli altri strumenti di comunicazione, abbiamo la televisione, che dire, veniamo bombardati ogni giorno, io non voglio aprire discussioni su l'energia negativa che passa dalla televisione, dai telegiornali e che entra nella nostra quotidianità. Poi da due anni a questa parte c'è veramente una carica pesantemente negativa e continua in questi mezzi di comunicazione, perché comunque se ascoltate questi mezzi, praticamente vi rendete conto che per loro, per quanto dicono, non c'è futuro, meglio stare barricati dentro casa, perché si può morire in qualsiasi modo e momento. L'economia, i mercati finanziari crollano ogni tre giorni, quando in realtà magari sono solo ritracciamenti, ecco, penso che davanti a queste parole, se pensate appunto che le parole che ascoltate o che leggete sui giornali, sui ascoltate nei telegiornali, ogni giorno siano solo delle lettere messe in fila, vi sbagliate di grosso, perché quelle lettere, combinate tra loro, hanno un potere che io dico invisibile, invisibile agli occhi, ma che poi è visibilissimo a livello inconscio in ognuno di noi e può influenzare molto il modo in cui trascorriamo la nostra giornata. Tanto per la cronaca, io e Martina non guardiamo tv e telegiornali da parecchio tempo ormai, qualche notizia chiaramente ci sta a livello anche economico, ma i canonici dei giornali e televisioni proprio no. A tal proposito arriviamo al libro che volevo consigliarvi, un libro un po' particolare, il libro Psicologia delle Folle, che è un libro scritto poco più di cento anni fa e ancora oggi secondo me molto utile, soprattutto oggi per comprendere il periodo storico che stiamo vivendo e soprattutto per capire i mezzi di comunicazione di massa. È un po' meno utile invece per i social media, perché chiaramente non è un libro per virgolette aggiornato essendo di parecchio tempo fa. Quindi per i social media sicuramente sicuramente no. Metti anzi inutile, pago solo il cano, è ok. Un'altra cosa che secondo me si può anche ricondurre alle influenze esterne, non vorrei anticipare qualcosa che forse c'è dopo, quindi fermami se per caso lo faccio, sono le persone. Sì, sì, sì. Ok. E l'ho infatti messo in un altro giusto. In un altro fattore, in un altro fattore che poi qualcuno c'era chiaramente già arrivato prima. Libro Master Ed, infatti con Ercin c'eravamo scambiati opinioni se non sbaglio in un evento di Cimogers su questo libro. Ecco. Adesso ragazzi arriviamo a un punto che secondo me invece è cruciale. Abbiamo anticipato prima diciamo con la morning routine e l'attività fisica, parliamo dell'attività fisica che è uno dei fattori più condizionanti nella vita di un individuo, soprattutto in chiave di stress management e salute fisica. Ma a questo punto io rilascio la parola a una persona che mi ha insegnato molto da questo punto di vista che tra l'altro è anche la vostra coach ovvero Martina che ci saprà dire sicuramente qualcosa in più per questo fattore chiave. Sì, soprattutto perché io ho partecipato alle Olimpiadi del 2011-12. No, a parte questo io non sono una persona come dire sono sportiva da un lato ma non sono una persona totalmente diciamo che fa principalmente quello che rende l'attività fisica una priorità ma mi sono proprio accorta o meglio ci ho sempre provato ho combattuto anni per farsi di diventare quella persona super atletica super sportiva fisicata e altro per rendermi conto che io ho un'altra priorità chiaramente che per me è il trading investimenti costruire un capitale di un certo tipo e via così quindi ho sempre combattuto tra il fatto di dare priorità ad una cosa o ad un'altra come per esempio impormi in passato orari fissi per la palestra nonostante magari stessi facendo che ne so backtesting o stessi operando e via così col tempo soprattutto con l'arrivo del covid che siamo tutti rimasti chiusi in casa quindi le palestre erano chiuse e altro ho tirato vi dico la verità inizialmente un sospiro di sollievo dicendo ok adesso non posso più sentirmi in colpa per non andare in palestra perché non ci posso andare in palestra dopo due settimane sono impazzita letteralmente pensavo di poter dedicare più tempo a tutto il resto tagliando fuori la palestra per arrivare ad impazzire e addirittura dimagrire di cicli come sia successo non lo so quindi capite anche cosa succede nella nostra testa l'attività fisica è veramente fondamentale ragazzi soprattutto per chi fa esatto bellissimo soprattutto per chi fa trading come noi quindi ha anche un certo diciamo una certa pesantezza a livello mentale quindi diciamo quanto aiuti lo sport solo lo sport lo sa è bellissimo questa immagine tecnogym chiaramente sì esatto siamo proprio noi siamo proprio noi e quindi lo sport è veramente importantissimo perché ci aiuta proprio a liberare la mente ma vabbè oltre a dire le solite cose che sappiamo tutti un esempio banalissimo che vi voglio fare non so se vi è successo se qualcuno di voi comunque prova ad andare in palestra in generale ad allenarsi che arriva a quella giornata dove decide di non farlo perché magari sono già le sei le sei e mezzo alle sette sta ancora facendo bad testing sta ancora magari operando facendo le proprie ricerche dice oggi dedico la giornata a finire questa cosa qua e poi ci ripenso domani ad allenarmi queste giornate che si concludono con noi che continuiamo a rimanere sul computer sono forse la cosa che più ci stanca in assoluto e che non ci rendono pronti a ricominciare il giorno successivo mentre andare in palestra allenarsi fare una passeggiata una corsa o qualsiasi sport si voglia per quanto momentaneamente sembra la cosa più stancante è quella cosa che si ci distrugge per la giornata ci fa staccare dai grafici ma il giorno dopo ci dà la carica per ripartire quindi l'attività fisica è veramente di fondamentale importanza perché oltre il fatto che vi posso assicurare che se avete qualche dubbio qualche perplessità se avete qualcosa a cui state pensando e che preferite quindi rimanere a casa cercare di trovare una soluzione la soluzione con ogni probabilità vi arriverà proprio mentre voi starete facendo attività fisica perché avrete liberato la mente è inutile dire ovviamente quanto sia importante esatto noi siamo corpo e mente e qualcuno diceva appunto mente sana chiaramente in corpo sano e questa cosa è verissima quindi l'attività fisica credetemi se non la fate inseritela all'interno della vostra routine perché qualcosa che credetemi anche se non sembra migliorerà tantissimo il vostro trading sembra che possa portarvi a tempo il vostro trading no assolutamente lo migliorerà drasticamente e questa cosa diciamo l'ho assodata dopo che mi è stata tolta la palestra ci è stata tolta la palestra lo sport per praticamente un anno e mezzo finalmente che da quando a giugno le palestre hanno riaperto io vado in palestra e basta non faccio altri sport se non ogni tanto correre o camminare o cose occasionali mi sono proprio accorta di quanto mi abbia aiutato a rimanere mentalmente ferma e salda seguire le mie regole seguire il trading plan in modo impeccabile non dare di matto quindi l'attività fisica ragazzi per il successo nel trading e in generale nel mondo di investimenti imprenditoriale è fondamentale se ancora non lo avete fatto investite in un abbonamento in palestra o anche solo in non so diciamo un patto con voi stessi che vi spinga ad uscire il pomeriggio o verso sera chiaramente se ne avete il tempo ma il tempo lo si trova sempre basta anche solo pensare di parcheggiare la macchina un po' più lontana e camminare quei 20 minuti in più oppure insomma rinunciare a determinate cose per inserire attività fisica perché è fondamentale anche questa come tutte le cose non deve diventare poi una fissazione deve essere totalmente calibrata e ponderata all'interno della vita del trader qua fra di voi in questo momento c'è un mio compagno di palestra Unicimoker con cui io mi alleno Carlo ce lo diamo insieme eccolo e lui sa benissimo che può anche non vedermi in palestra per due o tre giorni perché mi salto le sessioni perché magari ho delle priorità di un certo tipo che sono finire backtesting o il webinar e cose così e quindi diciamo che sa che faccio il possibile e quando mi vede sicuramente infatti oggi ci siamo allenati insieme tra virgolette subito mi fa ma scusa stasera c'è il webinar cioè cosa ci fai qua mezz'oretta oggi mi serviva quindi andare anche lì a ponderare tutto ciò sulla nostra vita chiaramente non sempre avendo altre priorità si riesce a farlo ma anche solo quei dieci minuti quel quarto d'ora credetemi che vi cambierà la vita quindi seriamente fatelo perché è qualcosa di importantissimo se vuoi consigliarci un libro che hai ragione hai ragione allora in realtà il libro non parla soltanto dell'allenamento perché racchiude tante cose tante cose molto carine e appunto si chiama On the Day On Your Life è un libro che va a trattare l'allenamento l'alimentazione va a trattare diciamo tanti aspetti della vita infatti non vi consiglio un libro per prepararsi gli allenamenti a casa da soli perché non ha senso ma è molto carino perché qualcosina la consiglia in realtà ma parla proprio di come l'allenamento in un capitolo particolare perché non parla solo di quello di come l'allenamento abbia influenza sul nostro sul nostro cervello infatti cioè sulla nostra mentalità non cervello a livello di cervello ecco è molto bello come libro vi può dare tanti tanti spunti e quindi se vi cioè se vi va potete leggerlo è in inglese è un mattone ma è molto scorrevole soprattutto è consultabile in qualsiasi momento quindi non deve essere una tirata unica a me è piaciuto tanto l'ho letto tanti anni fa dovrei anche rileggerlo però mi ha proprio fatto capire come sia tutto correlato praticamente e quindi un bel libro lo trovate anche lui nella libreria di sul sito e mattoncino però li vale cioè vale assolutamente la lettura e il tempo per la lettura detto detto ciò lascio un po' il messaggio la prossima experience sarà fit and trade ci sta assolutamente perché l'anno scorso invece eravamo un po' scollegati su questo c'era qualche qualche si allenava qualcun altro andava a fare delle lunghe passeggiate verso insomma spiagge montagne montagne insomma in solitaria qualcun altro nuotava mentre per la prossima experience a luglio 2022 possiamo sicuramente coordinarci e fare qualcosa tutti insieme sarebbe sarebbe carino perché comunque abbiamo abbiamo Martina che ne sa ne sa e il il fattore secondo me condizionante l'altro fattore condizionante che va in coppia con quanto spiegato ora e quindi con l'attività fisica è l'alimentazione e anche qui ragazzi abbiamo l'opportunità di sentire l'opinione di Martina che vi assicuro fidatevi di me ha speso e spende migliaia di euro l'anno per formarsi per testare per sì diciamo formarsi in questi due settori tra attività fisica e alimentazione e quindi racchiude un po' l'esperienza di tutti tutti quei soldi spesi in programmi alimentazioni strumenti e molto altro quindi come si legano un po' le cose se voi magari starete ridendo direte vabbè ma ti ho esagerato a dire migliaia di euro ragazzi io spendo veramente migliaia di euro l'anno anche solo per l'alimentazione cioè ma l'alimentazione a livello di ricerca di prove su me stessa ho comprato tutti gli integratori possibili immaginabili che non avete idea per testarli per capire se potevano darmi qualcosa cose in più e via così io sono a dieta se mi sentite sono sempre a dieta Martino è sempre a dieta ma la verità è che non è che sono propriamente a dieta io cerco di quando dico dieta significa soltanto che cerco di mangiare pulito rispettando determinate calorie semplicemente perché so che se sforo quelle calorie io ho mangiato troppo per il mio corpo e chiaramente il giorno dopo questa cosa la vado a risentire magari con gonfiore magari con fastidi allo stomaco mi sento gonfia e via così sono cose che non mi piacciono l'alimentazione è qualcosa di fondamentale anche anche lei perché ci dà proprio chiarezza mentale e questo per esempio che è venuto all'experience ecco lì proprio abbiamo sbagliato tutto cioè mangiavamo veramente tanto e i pomeriggi erano devastanti io fortunatamente non facevo colazione con voi quindi fino a mezzogiorno ero ancora abbastanza sveglia ma da dopo pranzo c'era da morire l'alimentazione è fondamentale perché dobbiamo imparare a diciamo mangiare in modo ponderato quindi anche lì andare soprattutto a puntare appunto la nostra alimentazione sulle proteine sul fare un pasto che è finito non ci appesantisca perché sennò poi è difficile rimanere concentrata quindi io appunto da sono a dieta da anni se mi sentite sono a dieta da anni non sono mai una dieta rigida per nulla mi concedo tutti gli sfizi possibili immaginabili però però cerco sempre quando posso di mangiare pulito non mi nego una pizza con amici non mi nego una cena fuori o cibo da sport o un panino esatto dieta flessibile esatto però ogni volta che posso cerco di mangiare il più pulito possibile mettendo in primo piano le proteine mettendo in primo piano la verdura la frutta e usando per esempio i carboidrati soltanto come un piccolo contorno perché io ad esempio reagisco male ai troppi carboidrati mi sento fiacca e tra l'altro contornato dal fatto che io quest'anno ho avuto anche parecchi problemi di salute lo sapete passate un po' di tutti i colori l'alimentazione mi aiuta veramente tanto a cercare di evitare di avere ricadute quindi anche qui ragazzi se non ne sapete io vi consiglio di informarvi capita anche la giornata che si mangia il volo davanti al pc esatto esatto che va bene a patto che sia comunque un qualcosa di digeribile per il nostro corpo vi consiglio appunto di informarvi in merito e di andare a se già non l'avete rendere la vostra alimentazione sana e pulita perché è veramente cioè cambia totalmente il fatto che dopo pranzo vi venga la biocco dopo cena oppure alla lucidità mentale che avete se fate un periodo prolungato di bad testing io vi consiglio oltre al far l'abbonamento a trading view di investire sulla fonte di proteine carboidrati frutta e verdura che andate a comprare al supermercato perché vi garantisco che vi faranno fare un lavoro molto più lucido e anche molto più veloce confermo l'impatto positivo o negativo dell'alimentazione sulle performance mentali colazione punto di partenza fondamentale ecco per esempio io non faccio colazione io faccio il digiuno intermittenza quindi per parlarvi un po' di quello che faccio io chiaramente non sono da prendere come punto di riferimento perché ognuno reagisce in modo diverso a me la colazione è sempre stato un pasto che mi ha sempre dato un po' fastidio perché mi apre lo stomaco mi appesantisce poi se io faccio colazione alle 7 alle 11 già ho di nuovo fame quindi io non faccio colazione mi sveglio mi faccio un caffè e poi tiro fino a quando non mi viene fame appunto evito di mangiare a volte vado avanti fino al pranzo a volte ultimamente per esempio mi concedo qualcosina a metà mattinata perché mi viene proprio fame ma il fatto di non fare colazione io mi fa rimanere lucidissima questo perché il nostro stomaco non va diciamo concentrarsi sulla digestione quindi tutto il mio corpo resta magari più focalizzato su quello che sto facendo invece che andare a concentrarsi sulla digestione poi faccio pranzo un pranzo che cerco sempre di comporre principalmente da proteine quindi da un secondo tra virgolette usando i carboidrati di accompagnamento e tanta tanta frutta principalmente verdura poi la frutta in altri momenti spuntino tra pranzo e la cena e di nuovo cena che mi tenga molto lucida principalmente lunedì e mercoledì quando abbiamo il webinar vi assicuro che le mie cene sono pulitissime questa sera prima di fare il webinar non avevo neanche tanto tempo questo però non deve essere una scusa infatti sono riuscita a prepararmi del salmone con una mezza piadina fatta tipo abbrustolita delle verdure e ho fatto una cena dove adesso non mi sento minimamente appesantita mi sento molto lucida anzi quindi l'alimentazione è veramente fondamentale forse tra tutte è la cosa che più vi può cambiare la vita la routine perché potete allenarvi quanto volete ma se mangiate male oltre al fatto che non vedete risultati e comunque non riuscirete neanche ad allenarvi arriverete all'alimento stanchi magari senza neanche la voglia di farlo potete avere routine orari magnifici svegli alle 5 ogni giorno ma se non mangiate bene vi sentirete sempre stanchi quindi vi consiglio veramente di informarvi in merito se non siete totalmente estranei a questo mondo vi consiglio un libro il primo in assoluto è quello che vi ho già consigliato per l'attività fisica perché sempre on the day on your life tratta di alimentazione in modo molto molto blando quindi non va non entra in modo scientifico nell'argomento ma ne parla molto molto bene da anche qualche tip carino io l'ho seguito per un po' poi certe cose non mi sono più state utili se invece volete andare più nel dettaglio più nell'ottore scientifico vi consiglio Project Nutrition Project Nutrition è un po' un manuale chiamiamolo così abbastanza scientifico ma molto comprensibile molto scorrevole è uscito nel 2015 io l'ho letto nel 2015 e mi ha cambiato la vita parla e spiega tutto cosa sono i macronutrienti i micronutrienti ci parla dell'importanza dell'acqua del sodio di tutto quanto ragazzi vi dà veramente un'infarinatura non un'infarinatura vi dà proprio delle nozioni importanti che possono aiutarvi a fare diciamo a seguire un'alimentazione sana io sono contro le diete dovete sapere infatti io dico che sono a dieta ma io non sono a dieta io sono contro le diete perché quando qualcun altro ci impone cosa mangiare a meno che chiaramente non sia una preparazione atletica o qualcosa dove è importante farlo vabbè li passi però per tutto il resto fin quando qualcuno ci impone qualcosa da mangiare noi possiamo seguirlo per un po' oltre il fatto che dureremo molto poco all'interno di una dieta non sapremo veramente avere il controllo del cibo che mangiamo è importante secondo me invece imparare a conoscersi imparare a capire come il nostro corpo reagisce meglio o peggio riguardante determinati cibi per esempio ci sono diverse tipologie di diete alimentazioni la chetogenica che principalmente va su i grassi e le proteine ci sono quelle che magari vanno più sui carboidrati e via così io per esempio so che non reagisco molto bene ai carboidrati e di conseguenza devo ridurli al minimo non per dimagrire ragazzi ma per avere chiarezza mentale più io baso la mia alimentazione su grassi e proteine più io resto chiara diciamo mentalmente meno io mi gonfio e più il giorno dopo perderò tempo a cercare di prendermi qualcosa per lo stomaco perché non ho digerito quindi veramente veramente consigliato è un argomento di fondamentale importanza potrei farci 12 webinar solo su questo e infatti adesso smetto di parlare perché se no non smetto più però insomma veramente ragazzi informatevi su questo argomento perché anche solo chi dice che fa fatica a fare backtesting per esempio magari c'è chi ha detto che fa fatica a fare backtesting perché fa fatica a mantenere la concentrazione nel fare anche solo un'oretta di backtesting chiedetevi se avete l'alimentazione giusta alla base perché può essere che la risposta sia no se arrivate da 100 grammi di cioccolata al latte e due caffè magari con 4 cucchiaini di zucchero è chiaro che il backtesting è difficile da farsi se arrivate da un'alimentazione sana dei pasti sani è difficile che andiate a perdere la concentrazione ok? mi hai fatto venire voglia di comprare questo libro sì per la verità non l'ho letto mi hai veramente invogliato con la descrizione è molto scientifico bisogna starci dietro un po' però ti apre totalmente la vita ecco quindi ma poi è importantissimo conoscere tutte queste diciamo cose un po' scientifiche della situazione assolutamente lo acquisterò lo acquisterò c'è sul sito? yes dovrebbe oddio non lo so dovrebbe dovrebbe esserci proprio nell'ultima parte di allenamento ed alimentazione sì in italiano tra l'altro ragazzi oltre che essere in italiano è proprio un libro italiano nel senso che loro sono si chiamano project invictus se non volete leggere il libro provate a seguire il canale youtube si chiamano appunto project invictus e sono totalmente cioè informativi a un livello estremo con dati scientifici e mi piace il fatto che da quando mi sono avvicinata al loro canale quindi nel lontano 2014 loro non hanno mai proposto diete ma hanno sempre spiegato perché una cosa fa così una cosa fa cosà senza dicendo sempre che diciamo il loro motto è padroni dei concetti per fare le scelte giuste sulla sulla propria vita e non schiavi del sistema di chi ci dice cosa mangiare quindi bellissimo mi sembra molto filosofia i cimokers e col tempo effettivamente siamo molto vicini a quanto hanno fatto loro con l'alimentazione ps quei quattro concetti nominati ora da marti bastano per il 90% delle persone poche cose semplici chiare ma soprattutto utili sì esatto purtroppo tutti pensano ci sia il sacro graal di farsi fare la dieta dalla persona x che è un fisico della madonna la verità è che non dureremmo due giorni con quella dieta oltre il fatto che diventa pesante diventa ecco seguire una dieta ragazzi va a mettere ulteriore stress e quindi siamo in un loop in un circolo vizioso da cui non usciamo invece dobbiamo diventare consapevoli di ciò che mangiamo felici di quello che abbiamo mangiato sapendo che è nutrimento per il nostro corpo per il nostro cervello esatto dieta flessibile top mangiare di tutto nelle giuste quantità concedersi tutto ma avere alla lunga un'alimentazione sana e lo sentiamo su di noi se siamo sani o no cioè io noto proprio dopo l'experience per esempio ho patito tanto il ritorno a l'alimentazione sana perché l'experience è stata bellissima e tutto però abbiamo mangiato veramente tanto veramente veramente tanto ci sta quelle due settimane l'anno per carità però quest'anno faremo sicuramente dei miglioramenti vero? andremo a vedere cibi un po' più puliti magari assolutamente assolutamente mi metto ci mettiamo a quattro mani metto anche io dopo che leggo project nutrition e vediamo un po' magari ci vengono delle idee sicuramente più sane dello scorso anno a parte questo hai nominato sacro graal e stavo appunto pensando che per ogni fattore di cui stiamo parlando c'è uno o più c'è un sacro graal c'è il sacro graal della routine e poi comunque non non esiste effettivamente come anche nel trading il sacro graal è semplicemente qualcosa che fa per noi è la cosa che fa per noi semplicemente quindi anche in questo in questo caso l'alimentazione è curioso come non esista un sacro graal ma come sia appunto adattabile a noi stessi ed è perfettamente così anche per il trading comunque sia riprendo la parola per continuare per parlarvi di quello che Martina prima ci aveva un attimo spoilerato ovvero il circolo di influenza l'ho chiamato in questo modo differente appunto dall'influenza esterne che ho voluto addossare appunto a fattori strumenti esterni il circolo di influenza è qualcosa che ci circonda qualcosa che è intorno a noi e mi riferisco quindi a amici parenti famiglia relazione gruppi è importante ragazzi che il vostro circolo di influenza non tutto non ogni singola persona chiaramente perché sarebbe impossibile e anche meno costruttivo ma che perlomeno qualcuno del vostro circolo di influenza sia allineato con voi per me essere allineati non significa per me essere allineati non significa per forza condividere le passioni ma semplicemente accettare non giudicare condividere in modo libero appunto poter condividere in modo libero e so che è molto complicato riuscire a condividere la vostra vita da trader con il vostro circolo di influenza di questo ne abbiamo parlato già in due webinar e per questo la community che viviamo ogni giorno da cinque anni che vive da cinque anni qui su Slack è secondo me un alleato molto potente ragazzi e non bisogna mai sottovalutare la potenza della community perché dentro comunque sono creati dei rapporti che sono veri alla base determinate persone si conoscono dal vivo sono nate anche amicizie ma in ogni caso qualsiasi sia il rapporto nato all'interno della community c'è la condivisione di un argomento comune e c'è la condivisione di un argomento comune senza giudizio chi è dentro da tempo infatti avrà notato che non c'è giudizio e non pensate che questa sia una casualità perché io e Martina per anni ci siamo battuti letteralmente per allineare tutte le persone su questo filone e proprio sinceramente lo dico chi ha provato altre community chiamiamole così ecco sa già sa già com'è la la situazione sa già appunto le differenze che ci sono con la community cimogers e di conseguenza la community è un circolo secondo me di influenza molto positivo che può riflettersi sui vostri risultati a questo punto vi chiedo infatti quanti dei qui presenti pensano che la community li abbia aiutati e li stia aiutando nel migliorarsi col loro trading io 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 come non mai io vedi tra l'altro è il tassello che diciamo sì un buon 80 85% delle persone che provano i cimogers rimangono i cimogers o ritornano i cimogers gli chiediamo sempre ma qual è il punto di forza secondo te io sì va bene gli eventi fantastici assurdo tutto assurdo i webinar bellissimi tutto quanto ma la community è veramente assurda mi dà una mano mi aiuta e mi fa piacere che appunto è un mondo parallelo è un mondo parallelo mi fa veramente piacere che anche la quasi totalità dei presenti riconosca appunto l'influenza positiva appunto che può che può avere la community e che si può riflettere appunto nei risultati del trading assolutamente ragazzi assolutamente da questo punto di vista fa del bene libro che mi sento di consigliare circolo di influenza parliamo appunto circolo di influenza è un libro che parla molto della comprensione verso gli altri perché secondo me non c'è un modo testato e comprovato per far cambiare le persone o meglio è più complicato mettersi a lavorare su di una persona cercando di cambiarla che invece cercare di lavorare su noi stessi per fare un lavoro di comprensione verso quella persona per questo infatti intelligenza emotiva è un grande libro di psicologia e mindset e racchiude un po' quella sensibilità se vogliamo dire così che si può adattare a ognuna di queste aree se non l'avete letto ragazzi dategli uno sguardo chiaramente adesso non leggete non comprate tutti insieme i libri che vi stiamo consigliando ma sono tutti spunti molto molto utili per andare a fondo di ogni fattore che stiamo appunto trattando quindi è un libro molto molto bello ecco in questo caso nuovamente la community aiuta perché io questo libro l'ho comprato l'ho letto dieci pagine non sono più riuscita ad andare avanti ma giustamente se tu dici che invece è un bel libro mi impegnerò per farne altre dieci e vedere se trovo lo stimolo ad andare avanti in quelle dieci ah io io lo adoro dicono io ho fatto fatica ad andare avanti invece da leggere più volte ci dice Thomas ecco forse è un libro da leggere più volte ecco che sono un po' quei libri un po' complessi Thomas ci dice infatti anche io la prima volta mi sono fermato ah bene buono a sapersi allora gli darò sicuramente un'altra possibilità io sto facendo fatica con pensieri lenti e veloci anche quello è un libro veramente veramente tosto ma è un libro è sì lo posso dire è il pioniere di tutta la cultura diciamo mindset ma più che mindset è proprio psicologia ragazzi quello è un libro che se non sbaglio consigliano e fanno studiare anche all'università cioè pensieri lenti e veloci è veramente il 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 pilastro che regge tutto il il settore ecco che chiamiamolo così è un libro molto molto complesso però quindi ti do ragione Carlo ti do assolutamente ragione che va un libro che gli va dedicato un po' un po' più di tempo ecco non è una lettura semplice diciamo così qualcuno lo aveva detto all'inizio parlando di un altro fattore Mirko Mirko l'ho letto da Mirko e forse perché appunto è un qualcosa che a lui lo intatta non lo so non lo sappiamo se lo dirà magari in chat il sonno ragazzi è un elemento centrale è l'elemento centrale che regola l'equilibrio di un essere umano e anche qui indovinate un po' chi ha scoperto qualcosa di interessante sul sonno chi ha preso strumenti sul sonno chi si è messo alla prova chi ha messo alla prova il proprio sonno oh vedi Ersin già lo sa era facile era semplice è sempre la nostra Martina non so se gli ci mocker più veterani si ricorderanno di quel periodo del 2019 dove io sono un po' sparita tra marzo e giugno ecco io lì ho detto a Matti Matti devi aiutarmi ora ti porti avanti tutta tu la community io devo fare ricerche sul sonno e ho passato tre mesi a dormire ovviamente sto scherzando però insomma il sonno è qualcosa ragazzi che vi ha dato una mi ha sempre messo quel pallino nel cervello tipo devo saperne di più devo saperne di più ed è un qualcosa che purtroppo non vede molti studi ma questo libro già apparso sullo schermo perché dormiamo ragazzi ve lo consiglio da leggere rileggere rileggere è bellissimo 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 perché uno dice cosa mi può mai dire un libro che si chiama perché dormiamo che cagata no ragazzi è fantastico cioè è veramente fantastico vi dico giusto un paio di cosine che mi hanno molto impressionata da questo libro io suonavo ormai non sono più la chitarra e mi ricordo che quando mi preparavo qualche pezzo che dovevo portare sia per le lezioni sia anche quando poi ho iniziato a suonarla per i fatti miei magari c'erano dei passi un po' difficili insomma magari c'erano degli accordi che non mi venivano proprio al primo colpo e quindi mi mettevo lì ci provavo ci provavo ci provavo e durante quel pomeriggio quella serata mi sentivo che comunque ce l'avevano sapevo farlo ma più andavo avanti a esercitarmi e più mi veniva male più quell'accordo lo prendevo male più suonava male più mi saltava la corda e via così il giorno dopo dopo una bella dormita riprendevo la chitarra in mano e ragazzi l'accordo o tutto ciò che dovevo fare mi veniva automatico io ho sempre detto vabbè ok è un trucco che so solo io ok quindi a questo punto me lo tengo per me ogni volta che devo studiare qualcosa lo studio poi vado a dormire il giorno dopo la so ed effettivamente è così e il libro ne parla in un capitolo ed è assurdo che dice proprio che il nostro cervello mentre noi dormiamo continua a lavorare continua a esercitarsi se uno suona uno strumento lui fa proprio l'esempio dello strumento il nostro cervello nel sonno continua a provare con la mano quell'accordo di pianoforte di chitarra di violino e il giorno dopo uno automaticamente riesce a farlo questa cosa mi ha totalmente impressionata perché pensavo di essere l'unica persona al mondo a sperimentare questa cosa qui e invece no un'altra cosa molto bella che mi ha colpito è che un altro capitolo parla di un reset un backup che fa il nostro cervello ogni sera infatti durante il sonno il nostro cervello va a cancellare tutte le informazioni inutili per creare spazio per bellissimo per quelle utili quindi ogni giorno ogni mattina noi ci sveglieremo dimenticando qualcosa dal giorno precedente senza neanche sapere cosa perché non erano cose importanti e andrà a rendere più diciamo sì a solidificare le cose che invece sono importanti e queste cose mi sono veramente piaciute tantissimo così come io sono sempre stata una di quelle persone che diceva ok io ho bisogno di tot ore a notte e impazzivo ragazze l'idea di non poter dormire quelle ore a notte veramente letteralmente impazzivo quindi mi sono sempre detto ok allora adesso devo calibrare tutto sulle mie ore a notte quindi se vado a dormire alle 2 dormo 8 ore mi sveglio alle 10 se vado a dormire a mezzanotte mi sveglio alle 8 se vado a dormire alle 10 mi sveglio alle 6 e via così questo libro parla proprio di come in realtà sì certo uno deve rispettare ore notturne perché alla lunga fa vedere proprio tutti gli effetti collaterali del non dormire un minimo di ore a notte per esempio lui smentisce totalmente la frase dormirò quando sarò morto e dice proprio che saremo morti molto prima se non dormiamo in realtà e dice come sia molto più importante avere dei ritmi ovvero andare a dormire sempre alla stessa ora e svegliarci sempre alla stessa ora o meglio provarci insomma un libro bellissimo ragazzi bellissimo che mi ha fatto cambiare idea su tante cose e che soprattutto mi ha fatto fare il reso dell'Ora Ring non so se avete presente cos'è felicissima di aver comprato questo anellino che misura il sonno dopo aver letto questo libro ho fatto il reso perché mi sono resa conto di quanto sia una cavolata e non fa altro che aggiungere ansia al sonno quindi è un libro che vi consiglio tantissimo uno dei miei libri preferiti in assoluto l'ho divorato e lo rileggerò sicuramente prima o poi però piccolo disclaimer lui non parla dei problemi del sonno quindi l'insonnia o tutte quelle cose lì lui non le tratta o meglio le tratta ma dice che comunque sono cose che devono essere viste da un punto di vista medico bisogna trattarle anche dei medicinali a volte ma anche lì fa vedere un po' di esperimenti cose molto molto interessanti ve lo consiglio tantissimo mi ha cambiato totalmente la vita perché avevo sto pallino del sonno avevo l'ansia di non dormire quelle mie ore a notte anzi pensavo vabbè ok se oggi ho dormito quattro ore nel weekend recupero tutto non funziona così il nostro cervello fa delle cose ben specifiche durante il sonno parla della fase REM della fase non REM di tutto ciò che succede nella fase REM e non REM quindi anche lì mi si è aperto un mondo e ho detto che figata pazzesca dice uno dice dormo otto ore al giorno a notte ed è uguale se io vado a dormire a mezzanotte o se vado a dormire alle dieci no 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 assolutamente perché le fasi REM e non REM adesso ho perso un po' di concetti non me li ricordo ma la fase REM che è quella più profonda se non erro sì è quella dove no è quella dove non si sogna la fase adesso non ricordo quale delle due comunque quella dove si sogna la fase meno profonda quella dove invece non si sogna la fase del sonno più profonda è dove il nostro cervello va a fare tutte le pulizie della situazione questa fase ha dei periodi molto più lunghi prima quindi più diciamo presto nella serata da mezzanotte in poi tanti processi il cervello non li fa più quindi noi possiamo anche dormire dodici ore ma non sentirci riposati perché il nostro cervello appunto certe cose da mezzanotte e l'una di notte in poi non le fa più questa cosa anche mi ha illuminata mi ha fatto capire proprio l'importanza di seguire anche un po' il sole il buio perché comunque siamo esseri umani insomma e viviamo con il sole o no è bellissimo bellissimo veramente bello 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 ve lo consiglio tantissimo perché è uno dei miei libri preferiti in assoluto si chiama Perché dormiamo io l'ho letto in italiano ovviamente quando posso lo leggo in italiano visto che ci sono un po' di messaggi forse mi fa bene un libro come questo una media di sonno di 5 ore a notte sicuramente sì chiaramente non cambierà quante ore dormirete in più nel senso che poi lista a voi imporvi delle routine di cui lui non parla però vi farà ragionare su tante cose e magari capirete che certe problematiche che potete avere nella vostra vita per esempio possono arrivare proprio dal sonno dalla mancanza di sonno anche dal dormire troppo perché attenzione dormire troppo è un male e lì mi sono spaventata perché ho nel weekend cerco sempre di recuperare le ore di sonno perse ma non va bene non va assolutamente bene quindi mi ha totalmente buttato giù tutte le mie credenze io soffro proprio di insonnia ultimamente sto migliorando però capita ancora di cedere soprattutto in momenti di stress quindi non dormo poi la mattina prendo sonno e manco le entrate e questo comunque questo è un problema che deve essere trattato a livello proprio diciamo da esperti ecco perché sì lui infatti mette mille disclaimer dicendo che queste cose bisogna vederle con degli esperti un libro che sembra banale ma non lo è a quanto dicono Breath sul perché è meglio respirare col naso soprattutto di notte bello anche se penso che farò fatica a cercare di gestire il mio respiro durante la notte perché già tanto se riesco a rimanere nel letto un po' di training autogeno prima di dormire aiuta o meditare o passeggiare o avere una routine di fine giornata definitiva esatto la routine di fine giornata è importantissima l'ho notato anch'io io ormai mi sono imposta di fare determinate cose precise prima di andare a dormire quindi il nostro cervello riconosce che ci stiamo avvicinando al dover chiudere gli occhi e automaticamente inizierà a spegnersi piano piano per portarci a dormire quindi assolutamente infatti il libro ne parla e davvero ragazzi se c'è un libro che proprio non vi consiglio non c'è libro che vi possa consigliare di più leggetelo perché è molto molto bello poi è un po' anche lui un mattoncino ma ci sono delle parti che potete schippare per esempio se non soffrite di insonnia io ho proprio il problema opposto quelle parti potete non leggerle leggerò quando mio figlio non si sveglierà più ogni due ore la notte può essere un'idea sì e questa quest'ultima cosa che avete detto soprattutto con con Claudio ovvero la routine di fine giornata in realtà io l'ho racchiusa un po' nell'ultimo nell'ultimo punto perché siamo in fase conclusiva del webinar e concludiamo appunto questo filone di fattori che potenzialmente possono influenzare le nostre performance con il relax ho utilizzato questa parola per racchiudere più cose in realtà andrebbero suddivise lo so bene perché diciamo è un po' una macro area ecco ho racchiuso veramente tante cose perché il relax può avere un significato diverso per per ognuno di noi questa è la realtà perché per alcuni si tratta di un hobby per alcuni si tratta della passeggiata di fine giornata altri appunto trovano riposo passeggiando in natura altri appunto lo associano col sonno in ogni caso quello che ci tengo a dire è che me lo ha insegnato Ronald Siegel dite chi è Ronald Siegel è il pioniere della teoria del qui e ora ma adesso ci arriviamo quello che dice lui è che non pensate mai mai nella vostra vita che sia relax e riposo vero vero con la lettera maiuscola guardare la televisione o giocare ai videogame ottenere il telefono in mano stando su TikTok Instagram o quello che sia e diciamo che Ronald Siegel pioniere della teoria del qui e ora sostiene proprio come il vero riposo mentale e l'unico vero riposo mentale secondo lui si possa trovare solo attraverso la pratica della meditazione e della mindfulness questo è quello che dice lui e per questo c'è un libro che in questa macro area vi spingo a leggere per valutare cos'è per voi il riposo magari se siete d'accordo o meno con Ronald Siegel ed è proprio qui e ora questo libro anche questo un bel pilastro del diciamo del filone mindfulness e meditazione è molto molto interessante l'ho letto in un periodo molto particolare della mia vita dove stavo un po' un po' giù e mi ha veramente posso dire cambiare che ha cambiato il periodo cioè ho iniziato a vedere le cose in una maniera differente ma non solo per quel periodo me lo sono me lo sono riportato per tanto tempo me lo riporto ancora oggi vedete i Cimogerts più veterani sanno che già gli ho fatto il riassunto chissà quante volte poi magari una volta dal vivo una volta in un webinar quindi questo è il libro che mi sento di consigliare so bene che la macro area sarebbe di andare a toccare ogni fattore di questa macro area ma chiaramente ognuno come ho detto ha il proprio metodo di intendere il relax e il riposo con questo ragazzi io e noi vi diamo la buonanotte sperando che questo webinar vi sia piaciuto e sperando soprattutto che vi aiuterà a riflettere perché questo mira vuole appunto mirare a fare questo webinar aiuterà a riflettere nelle settimane seguenti su come migliorare le vostre abitudini in relazione all'attività di trading soprattutto per cogliere quali di questi aspetti che abbiamo trattato vi hanno magari influenzato in passato o vi influenzano ancora oggi e magari interferiscono proprio con le vostre performance anzi se avete altri fattori che non abbiamo nominato non abbiamo toccato con mano questa sera altri spunti io ragazzi non vedo l'ora di trattarli penso anche Martina quindi scriveteci le cure su Slack in community grazie mille entrambi per gli spunti tantissimo e più tantissimo grazie grazie a te grazie a voi siete stati fino all'ultimo e mi fa piacere ci fa piacere che vi sia piaciuto top è proprio l'insieme di tutto ciò che devo migliorare ci dice Fabio bene c'è tanto lavoro da fare un po' come nel webinar degli obiettivi che abbiamo fatto qualche settimana fa anche lì era un webinar molto pesante a livello di messa in pratica ecco